C'era anche il centro attività subacquee Rivarolo Sub Explorer di Rivarolo Canavese nella mattinata di domenica 27 gennaio a Torino per l'iniziativa che torna puntuale ogni anno denominata Orsi Polari. Alle 9.30 gli atleti, in totale 148 provenienti da diverse zone di Torino e provincia, si sono ritrovati in Corso Moncalieri presso la sede del circolo Canottieri Caprera per onorare la tradizione lanciata da Rarinantes Torino che da 120 anni si ripete l'ultima domenica di gennaio, tuffarsi nel Po. Dopo la visita medica alle 10.30 dopo un attimo di silenzio per commemorare il giorno della memoria e l'inno di Mameli hanno abbandonato i capatoi e si sono tuffati. Presenti i Vigili del Fuoco, 118 e un buon numero di curiosi che ha salutato l'iniziativa con applausi scluscianti. Andiamo al quinto, 10.30, il primo a batteria. Allora, pronti per il futuro? Vigili del Fuoco, Veronica, Alberto, Tarcangelo, Federico, Torino, Enrica, Sero, Sordorati, Elena, Maurizio e Lucrezia. Il via sta per essere guidato da Sergio Martorati, il palido Forso Polare che per 30 anni si è trovato fino allo scopo anno 94 anni. Ragazzi, siete pronti? Pronti? Via! Partiti! Ottimo turno anche per questa nona batteria. Gira dall'acqua. E siamo alla decima batteria. Paolo, faccini, volentieri. Voto, ritorno per il pubblico, un saluto, l'ultimo saluto. No, ma poi c'è... Pronti? Ragazzi, siete pronti? Partiti. Partiti. Partiti, partiti. Corati. C'è che pronti? Partiti? Via! Partiti. Partiti. Grazie per la visione!